Essere all'altezza di Piero, come all'altezza di ogni grande artista, è un'emozione unica. Le prenotazioni sono arrivate da ogni parte d'Italia, i biglietti sono infatti già sold out fino al prossimo 12 marzo, giorno in cui questo ponteggio sarà smontato. Tutti vogliono vedere da vicino uno dei capolavori di Piero della Francesca, la leggenda della Vera Croce. Bellissimo, la vicinanza dà la percezione della raffinatezza del disegno, della pittura, della stesura del colore. Il celebre ciclo di dipinti realizzato dal maestro rinascimentale tra il 1452 e il 1466 è sottoposto ad un intervento di manutenzione e restauro conservativo. Prevede la rimozione del particellato solido che, come sapete, può essere veicolo di prodotti nocivi per le pitture murali e una volta verificato la presenza o meno di fenomeni di degrado interveniamo nella maniera più congrua. All'interno della Cappella Bacci, nella Basilica di San Francesco ad Arezzo, è stato così allestito un esclusivo ponteggio accessibile anche a piccoli gruppi di visitatori. Abbiamo trasformato quella che doveva essere una chiusura del museo in un'opportunità particolare. Gli interventi di manutenzione in programma saranno utili per monitorare lo stato di conservazione delle pitture murali e prevenire l'eventuale degrado dell'opera nei prossimi anni, ma non solo. Permette anche la realizzazione del restauro della croce, la grande croce duecentesca del maestro di San Francesco, che ha bisogno di essere restaurata, e anche la verifica e sostituzione, comunque implementazione della vetrata che chiude la grande finestra verso dell'abside, che è sempre stata, sin dal tempo del restauro degli anni 90, uno dei punti diciamo più critici. Le visite speciali e il costo di 35 euro a persona avranno la durata di circa un'ora. Con lo stesso biglietto si potrà accedere poi anche agli altri musei statali e aretini.